La storia di questa manifestazione si è avvalsa, ha fatto la strada insieme al Comune di Roma, tutti i sindaci che si sono succeduti in questo periodo di vent'anni, in qualche modo sono stati vicini a questa manifestazione, l'hanno apprezzata, l'hanno aiutata a crescere, ma certamente avere una donna sindaca ha fatto sì che questo tema forse l'abbia sentito di più e davvero l'aiuto che ci hai dato Virginia Raggi, sindaco di Roma, è stato straordinario, io ti sono grato, lo voglio dire qui davanti a tutti per la modalità e per l'affetto con cui in questi anni sei stata vicino a questa manifestazione, grazie davvero. Io non posso che ringraziare il professor Masetti, la Comen Italia per il preziosissimo lavoro che da oltre vent'anni sta facendo per sensibilizzare su un tema così delicato e piano piano abbiamo capito tutti quanti quanto sia importante il tempismo e la prevenzione per curare malattie come questa. Ora, quello che ci siamo detti da quando ci siamo sentiti, perché noi eravamo pronti per organizzare anche quest'anno la maratona, la race a Roma, è stato accidenti, quest'anno non si può correre fisicamente, va bene, lo faremo in un altro modo, perché quello che dice sempre il professor Masetti, Riccardo, è vero, ora il Covid ha fatto fermare l'Italia, ha fatto fermare il mondo, però il tumore non si ferma e allo stesso tempo non si deve fermare la prevenzione, questo è qualcosa che è fondamentale ricordare, perché la salute riguarda ciascuno di noi e ciascuna di noi deve essere la protagonista della propria salute, quindi dobbiamo ricordarci di fare controlli, dobbiamo ricordarci che anche se c'è il Covid, però la nostra salute viene prima, quindi controlli, andare a monitorare, insomma sono tutte cose fondamentali e noi siamo estremamente contenti di poter dare un piccolo contributo oggi ospitando qui il Presidente, ma poi insomma le race riprenderanno e quindi la nostra città si tingerà di nuovo di rosa. Tra l'altro vi voglio dare una buona notizia, con l'avvio della fase 2 è iniziato anche l'allestimento del camper che doniamo come città metropolitana e quindi a breve avremo un altro camper che verrà a far parte della vostra carovana della prevenzione e potrà andare in giro per la città di Roma, per le città della nostra ex provincia e quindi portare sostanzialmente direttamente a casa delle persone team di professionisti al loro servizio per iniziare a controllare chi magari se l'è un po' dimenticato. Questo è un lavoro che abbiamo fatto per tanti anni, molto apprezzato, per portare la prevenzione da dove arriva con più difficoltà, naturalmente al fianco dei programmi di screening istituzionale, non ci siamo mai neanche sognati di sovrapporci, anzi abbiamo sempre lavorato fianco a fianco, magari rivolgendo queste opportunità a donne che erano o in altre fasce di età oppure che per qualche motivo non sono coperte dagli screening istituzionali e credo che nella città metropolitana di Roma e anche nelle periferie di Roma abbiamo portato insieme opportunità di prendersi cura della propria salute a tante donne che vivono magari condizioni di difficoltà e che pur sapendo il valore di questi esami per tanti motivi non riuscirebbero altrimenti a farlo e quindi questa è una bella cosa che abbiamo fatto insieme e che vorremmo continuare e grazie davvero da parte di tutte le donne che ne beneficeranno di questa nuova opportunità che ci state dando.